Nel mondo della raccolta ci sono due lettere ed un numero che più di altre sono in grado di suscitare emozioni. Due lettere ed un numero che indicano un famoso modello di mietitrebbia conosciuto in tutto il mondo da anni. E queste due lettere e un numero sono CR10. Una mietitrebbia in grado di frantumare record su record nelle sue passate edizioni, ma una mietitrebbia messa recentemente in ombre alla New Holland stessa dall'annuncio nella scorsa agritecnica della futuristica CR11. Fatto sta che con questo nuovo modello la CR10 ha ottenuto dei grandi aggiornamenti e visto che di CR11 non se ne vedono ancora poi così tante al mondo, beh, intanto vi racconto le novità della CR10. La livrea di questo modello rivisitato è molto simile a quella annunciata con la nuova top di gamma. Quello che cambia è la capacità del serbatoio e la potenza del propulsore, ma fidatevi che nella maggior parte dei casi la CR10 basta e avanza. Nonostante infatti la CR11 possegga un serbatoio da 20.000 litri e un motore FPT Cursor 16 da 775 cavalli e 15.9 litri, anche la CR10 si difende bene con 16.000 litri di serbatoio e un motore sempre FPT Cursor, questa volta però il modello 13, da 635 cavalli e 13.9 litri. Oh, non è il top di gamma, ma buttala via, cioè voglio dire. Diciamo che in quest'ottica la CR11 è concepita per rivolgersi a un pubblico di nicchia, di mega aziende che ne esistono poche al mondo. Invece la CR10 è già un prodotto un po' più democratico, sempre destinato ad estensioni fuori dalla logica italiana, ma magari con un bacino d'utenza migliore. Migliore, ma comunque il top. Sta di fatto che si tratta per entrambi di prodotti al vertice della categoria e questa posizione di premato non dipende solo dalle potenze e capacità del serbatoio, ma anche e soprattutto dalla qualità della granella che queste macchine sono in grado di raggiungere in termini di rotture, pulizia e perdite. La qualità dipende principalmente dai nuovi rotori più lunghi e dal nuovo sistema Twin Clear, che prevede due cassoni crivellanti, ognuno composto da un crivello inferiore e un crivello superiore. Il flusso d'aria per la pulizia di questo sistema crivellante è creato da una ventola ad alta potenza, mentre due sistemi di distribuzione trasversale garantiscono un carico uniforme sui due cassoni. I rotori sono invece da 600 mm e il loro diametro è cresciuto rispetto allo scorso modello per garantire una migliore separazione e una migliore circolazione del prodotto all'interno di est. Ogni rotore può vantare di 40 spranghe di sgranatura, più 8 spranghe HX e 12 spranghe dentate, per un totale di 60. Come diceva Barbero, spranga. In particolare le unità HX sono una via di mezzo tra le due tipologie, tra quella dentata e quella normale, e sono studiate per velocizzare il flusso del prodotto. Veniamo ora alla cabina perché non sono solo le chicche tecnologiche a poter essere bollate come idee utili e intelligenti, ma bastano anche degli accorgimenti più semplici, come il serbatoio lavamani da 25 litri con dispenser del sapone, i pedali di nuova concezione e, per la comodità, clima, multizona e sedili in tessuto o pelle di alta qualità. A tutto questo aggiungiamo una radio bluetooth e chi lo scolla il trebbiatore da lì? Eh, sta lì, per sempre. Dalle immagini si vedono anche gli immancabili monitor di controllo, uno sul bracciolo e uno alla destra. Ormai non te lo omologano più se non ci sono almeno due televisori, ma tramite questi riusciamo ad avere molte informazioni sulla macchina. Infatti possiamo controllare i principali parametri di funzionamento, nel mentre che andiamo a settare quella che è la guida satellitare, e nel mentre che andiamo a monitorare le varie telecamere. Sono tre di base più una 360 opzionale che possono essere poste tutto attorno alla trebbia, in modo da facilitare le operazioni di carico-scarico e le manovre. Ogni volta ve lo dico, un concentrato di tecnologia, ormai l'agricoltura senza tecnologia non va più avanti. E poi noi dobbiamo fare anche mea culpa, perché fino a sette mesi fa la CR10 era la migliore, la CR1090 c'era il record di trebbiatura, questo e quello, insomma, tutti quanti gli occhi a cuoricino per la CR10, ora è uscita la CR11 e tutti quanti dicono, vabbè, allora giornata la 10, chi se ne frega. Cioè, noi ci interessano solo i modelli grandi daivanti. Il prossimo video lo facciamo sulle tre bietine, quelle larghe così, un metro e venti, va bene? Dai, per il prossimo video ci aggiorniamo su questo canale e ogni giorno sui nostri social e sul sito del web, così vi rimarrete sempre informati su quello che succede in agromeccanica. Ciao! 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 Grazie a tutti.